Questo video riguarda i migliori tre pattini da ghiaccio donna. Il vincitore della qualità è il Tempish Fine Pattini. Il pattino Tempish Fine è una scarpa appositamente progettata per le donne, che si contraddistingue per la sua perfetta sensazione di guida e il suo comfort. La sua eccellente vestibilità si adatta perfettamente al piede, la fodera interna lo mantiene caldo e offre un grande livello di comodità. Una particolarità è la pelliccia sintetica, che non solo si trova all'interno della scarpa, ma anche nella parte superiore della scarpa, che garantisce ancora più calore e comfort. Grazie ai lacci larghi e robusti, la scarpa consente una tenuta ottimale oltre alla vestibilità anatomica. La scarpa convince anche in termini di qualità. La lama in acciaio inox è molto resistente, così come la pelle sintetica idrorepellente. Il pattino Tempish Fine è adatto sia per l'uso per pattinare sul ghiaccio su laghi ghiacciati che per pattinaggio artistico in palestra. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Roches Paradise Eco. Le radici della tradizionale impresa italiana Roches risalgono al 1952, l'anno di fondazione. Fino ad oggi è guidata da un'azienda a conduzione familiare, si concentra su ciò che si può mai immaginare, costruire scarpe comode e durevoli. Roches è senza dubbio uno dei pionieri tecnici del pattinaggio sportivo. L'esperienza in questo segmento risale al 1978, quando con i primi pattini in plastica rigida al mondo, Roches è jet, un prodotto che ha caratterizzato un intero mercato dei decade. Questa prima ciotola è ancora oggi praticamente immutata su alcuni modelli di pattini in linea, come il Majestic 12 o il FCO nel programma. Ben quattro decenni e molti milioni di paia di scarpe dopo, il programma Roches oggi comprende pattini da ghiaccio per tutte le età, preferenze personali e tutti i campi di applicazione. Dal principiante agli esperti, per il tempo libero, l'allenamento, l'hockey su ghiaccio o una corsa rapida. Ambito di utilizzo e possibilità non ci sono limiti. Il vincitore del premio è il K2 Kinetic Ice. Nel 1994, K2 ha rivoluzionato l'industria degli skate, lanciando il primo stivale morbido per pattini in linea. Con una volta lo sport diventa più piacevole e facile. La tecnologia brevettata K2 offre agli skaters la precisione di una scarpa rigida in una nuova costruzione di stivale morbido, confortevole e leggera. Oggi K2 introduce il concetto collaudato anche nei pattini K2. Gli stivali morbidi hanno una vestibilità naturale. Stivale morbido originale K2 per una perfetta vestibilità e comfort. Allacciatura tradizionale con chiusura in velcro. Stability Plus Scaffo un rivestimento in plastica sul pusto per una maggiore stabilità. Materiali impermeabili per piedi caldi e asciutti. Lama in acciaio inox rivettata, facile da pulire e anti-ruggine. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.